Benvenute, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 2 del Livro Shea che valido fino al 7 marzo 2018. In questo album trovate tante offerte su tutti i prodotti per la cura del viso, le novità e soprattutto con 15 euro d'acquisto sia in omaggio la mini taglia della vostra crema viso preferita. Ci sono anche tanti set per la festa del papà e per la festa della donna, quindi direi di iniziare subito a sfogliare tutto il catalogo. Eccoci, allora come anticipato questo è un album bello pieno, vediamo subito tutte le promozioni e le novità. Prima cosa, con 15 euro di acquisto della linea anti-etac preferita, sia in omaggio il siero, questo qua in mini taglia, della linea che avete scelto. Quindi, intanto vi faccio vedere la novità che comunque concorre ai 15 euro. Allora, questo è il super concentrato di compattezza giorno e notte, promette di avere un risultato con una pelle più compatta, un trattamento intenso, ha una formula senza coloranti, paradeni, olio minerale. Ecco qui. E comunque c'è anche il set del trattamento compattezza intenso, più il figlio ammirato occhi e labbra, più la pochetta ha 27,95. Ogni 15 euro si è in omaggio il siero, in questo caso il siero ultra rimpolpante, se no con 15 euro di acquisto tra i tali prodotti delle varie linee, ecco vedete, ognuna ha il siero in omaggio. C'è anche il set ovviamente compattezza, che comprende a 26,95, trattamento rimpolpante giorno, il figlio ammirato occhi e labbra e la pochetta. Oppure ride ferme te, sempre 15 euro con il suo siero in omaggio. La serum vegetale, stessa cosa, 15 euro c'è il piccolo siero in omaggio. Eccolo qua, ride clatte, stessa cosa, elixir jeunesse, stessa cosa, 15 euro c'è il piccolo siero. Riche creme, stessa cosa, infatti è quello qua. Poi anti-age global, sempre 15 euro il piccolo siero, oppure c'è il set da 39,95, che comprende la pochette, il trattamento fondamentale giorno e la crema fondamentale occhi. 15 euro anche per i vari trattamenti, ecco di qua, il pedel anti-age global, la maschera, oppure la cura, correttore mirato antimacchie. Altra promozione, invece, sempre 15 euro. In questo caso però i trattamenti li potete scegliere, voi, tra quello della serum vegetale ride clatte, ride ferme te, oppure ride lifting, con il codice nero. 15 euro tra tutti i prodotti viso, tra tutti questi che vedete, e tranquillamente potete scegliere il vostro mini site del trattamento che volete voi. Quindi anche questi, le varie linee, eccole qua. Anche tra questi prodotti, quindi andando avanti sempre, perché, esatto, è fino a pagina 112, quindi per tutto il catalogo 15 euro e in omaggio il mini siero, quello che preferite. Altra novità che vi mostro, eccola qua, è il ferme te 2 in 1, che è un latte corpo 2 in 1, idratante e rassodante, con il guanto esfoliante a 9,95, che è davvero molto comodo, perché esfolia la pelle eliminando le cellule morte. Si utilizza tranquillamente sotto la doccia, una o due volte a settimana, e poi, si può usare sia da solo che con un gommage, quindi davvero è fantastico. Tutti i prodotti sempre 15 euro il mini siero in omaggio. Vediamo ora la promozione, perché abbiamo due matite color vegetale a 13,95, quindi tra tutti questi colori, eccoli, e sono davvero molto durevoli con matite. Quindi, prima con codice nero, la seconda con codice rosso, tutte e due a 13,95. Vediamo ora le idee per la festa dei papà. A questo caso abbiamo il set sensitive, da uomo, 19,95, e compende la schiuma da barba, il balsamo dopo barba, trattamento idratante 3 in 1, salvietta viso e la trusse. Oppure, eccola qua, il set fresche, freschetta, gel da barba, balsamo dopo barba, trattamento idratante 3 in 1, salvietta viso e la trusse da uomo, sempre 19,95. Altra promozione che vi mostro, eccola qua, perché è due bagno a doccia a 6,95. Potete scegliere tranquillamente tra tutti quelli che ci sono tutte le profumazioni, il primo col codice nero, il secondo col codice rosso, tra quelli da 400 ml, quindi davvero una buona promozione. E poi, tutti quanti i prodotti concorrono sempre per 15 euro in omaggio il mini siero a scelta. Vediamo ora l'idea per la festa della donna, che puoi riprendere il colore giallo tutti i prodotti che sono più usati. Quindi, ad esempio, le idee, la crema a mano, un trusse niente, oppure quella mani unghie 2 in 1, il gel detergente pur calmille, il latte corpo nutriente, tutto quello che ricorda il colore giallo. Oppure, le de toilette vaniglia bourbon o il bagno a doccia a fiori di cotone e mimosa, che credo sia proprio perfetto per il periodo. Allora, abbiamo sfogliato tutto l'album. Come sempre, qui sotto nell'info box ci sono tutti i contatti per le informazioni e per gli ordini. E c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato PDF, così potete tranquillamente scaricarlo sui vostri dispositivi multimediali. Oggi video un po' diverso perché lo sto facendo dal telefono. Comunque, non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il Magico Naturale Mondo di Yves Rocher. Grazie per la visione!